E' il 20 giugno 2017, siamo ad Apricena, provincia di Foggia, alle spalle del promontorio del Gargano. Alle 14.22 questa telecamera di sorveglianza riprende una scena che sembra quella di un film. Tre uomini incappucciati aprono il fuoco contro l'auto di due narcotrafficanti locali. Dopo averli speronati, i killer li finiscono a colpi di Kalashnikov. Meno di due mesi dopo, non lontano da qui, un altro assalto, sempre con AK-47 e fucili e centinaia di colpi esplosi. Ma stavolta, l'obiettivo dei killer è un vero pezzo da 90 della criminalità garganica. Meno di due mesi dopo, non lontano da qui, un altro assalto, sempre con lontano da qui, un altro assalto. E' la mattina del 9 agosto 2017. Due mesi dopo l'assalto di Apricena. Siamo sulla statale che da San Marco in Lamis porta la grande pianura ai piedi del Gargano. Questa strada sta viaggiando un'auto e a bordo c'è Mario Luciano Romito, il boss di Manfredone. A pochi metri dalla stazione abbandonata di San Marco in Lamis, Mario Luciano Romito viene affiancato da una macchina che corre a grande velocità. All'improvviso una raffica di Kalashnikov investe la sua auto. Io quei colpi li sentivo, stavo in ufficio. Pensavo che erano fuochi d'artificio, perché qui vicino ci sono questi obbifici che fanno fuochi d'artificio. Ogni tanto fanno dei test, delle prove. E chi ne sapevo io che erano proiettivi? L'auto finisce la sua corsa su questo campo, ma Romito respira ancora. Per questo uno dei killer prende la sua calibro 9, gli si avvicina e lo finisce, proprio qui. Esattamente in quel momento passano di lì per caso i fratelli Luigi e Aurelio Luciani, due contadini che stanno raggiungendo la loro azienda agricola. Non sappiamo cosa abbiano visto, ma gli assassini di Romito decidono che devono morire e si lanciano all'inseguimento. Si sono trovati là, forse avranno visto, avranno capito, non lo so, hanno stati fatto, che sono stati inseguiti. E li hanno sparato durante l'inseguimento. Infatti il fiorino è andato fuori strada. Ma con che cosa sparavano? Erano fucili. Lì per lì sembrava una scena da film. Luigi si accascia sul volante. I colpi lo raggiungono mentre ancora la guida. Aurelio, dopo aver visto il fratello morire, tenta la fuga nei campi, ma viene abbattuto dopo pochi metri. Doveva essere Aurelio con la maglietta verde, la macchia dietro la schiena, steso per terra e non dava segni di vita. E che persone erano? Agricoltori, mia stessa età. Agricoltori, punto e basta, cioè non avevano una virgola fuori posto, assolutamente. Erano due brave persone. Ma nella maniera più assoluta. Un'esecuzione talmente brutale da accendere i riflettori su Foggia e la sua provincia. Da anni ormai questa terra è in balia della cosiddetta quarta mafia. Gruppi criminali feroci e ben armati sono pronti a tutto e non risparmiano nessuno. Ci sono le mogli che contando coraggio portano avanti, difendono la memoria dei mariti e ne hanno fatto un esempio per tutti. Perché poi da questo avvenimento in poi c'è stata una forte scossa dell'opinione pubblica. C'è lo strazio di un intero paese per i funerali dei fratelli Luciani. Perché una spiegazione a queste morti innocenti non c'è. C'è la rabbia di Anna, moglie di Luigi, che dovrà cercare le parole giuste da dire alla figlia di pochi mesi. Ci sono le lacrime di Marianna, moglie di Aurelio, che ad ottobre partorirà la loro bambina e che intanto deve sostenere gli altri due figli di 9 e 10 anni abbastanza grandi per capire tutto. Tu non sapevi nulla del boss, gli omicidi, i killer? Sono fiera di dirti di no. Sono fiera di dirti che no, no. Perché non mi interessa. Però adesso sì. Quando l'aprivi il giornale e c'era qualcosa, tu giravi una pagina. Maggio. Si ammazzano tra di loro, l'importante è che non c'è andato qualche innocente di mezzo. E' quello che dissi pure io quella mattina, alle prime notizie del paese. Vedi che c'è l'istinto che cosa mi ha portato a dire. Queste sono le foto della vostra vita. Eh sì, sì. Queste sono le ultime foto, proprio le ultime infatti. L'ultima vacanza. L'ultima festa, la comunione di mio figlio, 2017. Ma Aurelio... Era un attimo, sai io. E' per questo che Aurelio ti tocca la pancia? Sì, è stato uno scatto così. Era finissima. Sì. Penso che quella foto parla da sola. Ha fatto in tempo a vedere. La bambina, no. È nata dopo. Dopo due mesi e mezzo, circa. Però sapeva che era una femminuccia. La notizia, quando mi arrivò telefonicamente, di quello che era successo, sentì proprio la pancia, questa bambina proprio agitata. In quel momento ho avuto paura. C'è la chiamata che ti hanno detto al telefono? La chiamata è stata che comunque c'era stato un agguato alla stazione di San Marco. Ma forse c'era Luigi, c'era Aurelio, non si capiva. Poi chiamai mio cognato Alberto, che sarebbe l'ultimo dei fratelli. Alzando la cornetta, lui piangeva. Lui era già sul posto quando io lo chiamai. Allora, da quel pianto, ho capito tutto. Secondo me, loro due hanno riconosciuto qualcuno. E potevano essere proprio scomodi scomodi. Che idea ti sei fatta per questa guerra? Che mi sono degli animali. Non sono degli uomini. Non si possono... Se sono dei papà, non sono dei papà. Non sono dei mariti. Non sono uomini. I ragazzi non ne parlano, vero? Mai. Mai? Mai. Però sanno tutto. Spero di fare il mio lavoro da mamma, il mio compito, di non trasmettergli l'odio, tutto qua. Perché quell'odio sarebbe... Sarebbe come i mafiosi, ecco. Perché qui invece le vendette si tramandano. Bravo. Io questo non lo voglio. Le vendette si tramandano e alimentano faide sanguinarie che durano decenni. Quella che ha travolto la vita dei fratelli Luciani ha infatti avuto origine molti anni prima per un tradimento che ha segnato la storia di questa terra. Foggia. Foggia, la terza provincia più grande d'Italia. 7.000 chilometri quadrati che corrono dal promontorio del Gargano fino alla grande pianura del Tavoliere. Nella terra di Padre Pio e San Michele Arcangelo, per decenni i fenomeni criminali sono passati inosservati e hanno avuto modo di crescere, espandersi, evolversi, fino a diventare un'emergenza nazionale. La mafia a Foggia ce la porta Raffaele Cutolo nel 1979. Il potente boss napoletano organizza un summit all'Hotel Florio. Questo. È qui che nasce la nuova Camorra Pugliese, che è all'inizio sotto quella campana, a cui deve il 40% dei proventi. Ma ben presto i Foggiani decidono di non avere più bisogno di padrini. Prima si sbarazzano dei camorristi e poi della Sacra Corona Unita, con la strage del Circolo Bacardi, primo maggio 1986, in cui vengono trucidati quattro uomini. Una mattanza che segna l'ascesa di Rocco Moretti, Vito Bruno Lanza, Roberto Sinesi e l'emancipazione di quella che, da quel momento, viene chiamata la società foggiana. Da quando la società foggiana ha guadagnato la sua indipendenza, col sangue, da Camorra e Sacra Corona Unita, inizia ad aggredire ogni settore. Le batterie foggiane sono spregiudicate e feroci. Ed estorcono a tappeto gli imprenditori e i commercianti della città. Chi si rifiuta di pagare il pizzo viene punito con la violenza. Le minacce e le bombe. Nei primi giorni del 2020 ci sono stati sei, forse sette attentati di Namitardia. Soltare bar, ristoranti, una frigitoria. La città è talmente la sua è fatta che ormai se salti in aria un negozio o una macchina non fa quasi più notizia. Chi non paga o muore, come è successo purtroppo da alcuni imprenditori, oppure salti in aria l'attività. Una strategia del terrore favorita anche da un clima di omertà che purtroppo per troppi anni ha contrassegnato questa città. Sotto la minaccia delle bombe, pagare il pizzo a Foggia diventa sistema, normalità. Si paga, ma non si parla. Si stima che l'80% dei commercianti foggiani sia vittima di estorsione. Siamo arrivati a dei momenti impensabili. La prima bomba che ha colpito una delle nostre autoaziendali in dotazione a mio fratello fatta esplodere sotto casa di mio fratello. Una bomba potentissima. Una potenza del genere, ma soprattutto una dinamica del genere, mai accaduta proprio. Tu immagini i figli di mio fratello, che quella sera in cui deflagra la bomba, loro erano chiaramente con mio fratello e a un certo punto si sono trovati gli infissi addosso. Cioè la potenza è stata incredibile. Poi ne sono seguite altre? Sì, questa volta piazzata presso un nostro centro di urno alle 7 e un quarto di mattina, che devasta il centro. La terza bomba, quella del primo aprile, sempre al centro degli anziani, ci distrugge completamente il centro. Per gli attentati con esplosivo nei confronti di Luca, Vigilante e tanti altri imprenditori, viene arrestato e condannato un giovane albanese di 32 anni, Antonio Rameta. Gli inquirenti lo identificano grazie ad un tatuaggio sulla mano e dimostrano la sua vicinanza ad appartenenti alla batteria dei Sinesi Francavilla, in particolare a Nicola Lariccia, uomo di fiducia di Francesco Sinesi. La sera del 12 novembre 2019, dopo aver piazzato una bomba, Antonio Rameta viene prelevato in auto da Fabio Delicarri, ex sotto ufficiale dell'esercito, vicino all'estrema destra foggiana e all'epoca dei fatti compagno della consigliera comunale di Fratelli d'Italia, Liliana Iadarola. Quando hanno messo in relazione Delicarri con questo attentatore, cosa ha pensato? Ha detto che è un'assurdità, ma non può essere assolutamente. Non sapeva, parliamo di questo forse, che lui era ignaro di tutto ciò. Quindi che il suo ex compagno fosse andato a prendere l'attentatore con la macchina il giorno stesso dell'attentato è una congettura? Ci sono delle spiegazioni a questo, dovremmo entrare in buona il personale. Fabio Delicarri è una persona molto buona di cuore. Faccio l'esercito, se lei stanotte dovesse bussare a casa sua per dire mi accompagni, lui il passaggio glielo dà. È buono. Nel 2014, Delicarri viene condannato per estorsione nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto racket delle mozzarella ai danni di diversi imprenditori. Tratto lei ha un caseificio di famiglia, parliamo di mozzarella, lei ha un caseificio, lui faceva le estorsioni per imporre le mozzarella. No, non era questo, era andato a recuperare dei soldi per dei prodotti che erano stati presi da noi dal caseificio e non erano stati pagati. Poi c'è stato, diciamo, un... Si sono picchiati, diciamo. Tutta più sarebbe dovuto essere pagato per lezioni personali, di lì puoi addire tutto il resto, ripeto, ma... No, lì tutto il resto è che lui dice, tu qua la mozzarella non ce la devi portare. Dovresti conoscere le carte di quel processo. I rapporti aveva con Antonio Remetta? No, 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 no. Lui c'erano compagni di Cella? Si erano conosciuti in Cella, ma... I contatti con la società foggiana di Delli Carri, lei li disconosce. A chi si riferisce? Mi riferisco alle persone che il suo compagno incontrava, cioè le frequentazioni. Sì, ma non riguardano la mia persona. Eppure, secondo la ricostruzione dei magistrati, Yadarola era consapevole dei rapporti del compagno con la Riccia, tanto da conoscerne il soprannome. I costi non sono andati così come sono state descritte. Ci sarà un processo che metterà in chiaro la ricerca. Lei pensa che tutto questo possa gettare un'ombra politica su di lei? Sicuramente l'opinione pubblica lo farà, però io vado avanti per la mia strada, perché sono sicura di non avere colpe. Dopo questa intervista, Liliana Yadarola si è dimessa, ma le ombre sull'amministrazione foggiana non finiscono qui. Questo, nella foto insieme a Fabio Delicarri, è il consigliere Bruno Longo, che sta patteggiando una condanna per tangenti. Mentre questo è il presidente del Consiglio Comunale, Leonardo Iaccarino, accusato di corruzione e peculato. Per queste ed altre vicende, il comune di Foggia è sotto osservazione per possibili infiltrazioni mafiose. Ma c'è qualcuno che alla società foggiana si è ribellato e ha avuto il coraggio di denunciare i suoi estorsori. E per questo ora vive e lavora protetto 24 ore su 24 da una scorta armata. Quali sono i cassoni che si sono squagliati addirittura? Sì, sì, questo è uno dei tanti dispetti rifatti. Quando sei contro la delinquenza, pure il dispettuccio viene premiato. Se uno mi fa un dispetto a me, i padrini, i boss, le fanno un complimento, gli battono la mano sulla spalla e dice che è bravo, hai fatto una bella cosa. Ti ricordi la prima volta che ti si è presentato un esponente delle famiglie locali per chiederti soldi? La prima volta si è presentato una persona che era, diciamo, un esattore della famiglia Moretti. Hanno chiesto questo contributo e naturalmente non gli ho dato. Poi la pressione è aumentata man mano, diversi incontri, io mi ci sono proprio presentato. Infatti il magistrato di D.A. mi ha detto che ero un pazzo. Perché quando ti chiamavano tu, andavi in cipi di noi? Sì, affrontavo il problema, sì, affrontavo il problema. E gli dicevo di noi. Il tenore delle minacce è cambiato e quando sono andato a vedere un campo di comodori e mi si è presentata l'intera mafia in campagna. Al completo? Al completo. Moretti con una decina, dieci, undici gregari. Cinque macchine erano. Ho accettato di pagare quel giorno. Perché se no forse non saresti uscito da quale situazione. e poi da lì si è scatenato tutto. L'ho denunciato all'altro il diavolo. Ci sono scattati tutti gli arresti e altro. Era una cosa che i magistrati aspettavano. Sì. Come è cambiata la tua vita a quel momento? È cambiata perché mi è dotato totalmente. Sacrifico la famiglia. Che la vita da testimonia non è quella di un comune civile. Prima di questa serie di denunce, delle tue denunce, qui non la faceva nessuno. Qui non ha denunciato nessuno. L'hai fatto solo te? Il primo denunciante, prima di me si mandava Panunzio, è stato ucciso. Ed è bastato quell'esempio. L'imprenditore, vista la morte di Panunzio, vista la fine delle aziende di Panunzio, diceva perché lo devo fare io, perché lo devo fare io. E nessuno l'ha più fatto. E nessuno l'ha più fatto. Ma era tantissimo tempo. Cioè, c'era un'altra di 15 anni di silenzio assoluto quando non c'era nessuno che parlava. Lazzaro Dauria ha avuto il coraggio di rompere questo silenzio. Grazie alle sue denunce, le forze dell'ordine hanno sgominato la batteria di Rocco Moretti, uno dei capi storici della società foggiana. Lazzaro, buongiorno, informare che sono diventato papà e sono grado di farlo sapere. Buona giornata. Cioè, questa è una famiglia che lavora con me. Se io chiudevo questo, non aveva come mantenere la famiglia, quindi non poteva vivere mai quei bambini. Che significa per te ricevere un messaggio così? Emoziona. E questa è la benzina per andare avanti? Sì. Negli stessi anni in cui Cutolo porta la mafia a Foggia, a pochi chilometri di distanza comincia l'ascesa di altri gruppi criminali. Gruppi feroci, nati e cresciuti nel culto della vendetta. Una vendetta che può durare anche decenni. Il Gargano. Per secoli, un mondo isolato, di pascoli e pastori. Sulla montagna di San Michele Arcangelo, la terra era tutto. Chi controllava la terra, imponeva la propria legge. E per quella stessa terra, si era disposti ad ammazzare. Tra gli anni settanta e gli anni novanta, a contendersi il promontorio, erano due clan di Monte Sant'Angelo. I Libergolis, guidati dal patriarca Ciccillo e spalleggiati dalla famiglia Miucci, e i Primosa, guidati da Raffaele, fiancheggiati dagli Alfieri. La miccia che innesca la faida è un omicidio avvenuto nel 1978 a seguito di uno sconfinamento di Pascolo. Da quel momento comincia una scia di sangue vendette, con decine di morti ammazzati. C'è stato uno studio sugli omicidi di mafia garganica. Nell'oltre il 90% di queste autopsie, la vittima non aveva più il volto. La vittima veniva come una sorta di rituale macabro, attinta al volto da un colpo di fucile a canne mozze. E l'obiettivo era proprio quello di cancellare le linee somatiche del volto. Ecco la ferocia che va oltre l'immaginabile. Cioè ti odio così tanto, lo voglio fare in modo che nessuno si possa ricordare di te. Abbiamo avuto 60 morti, un arco di un piano. Scusi, ma il Bergoli, Siprimosa, ma che famiglia era? Mi spiega come fanno degli allevatori a diventare criminali? Ecco qui, è una città del fratello. Come vanno a tirare nella paida, è pacissimo. E poi sono tutti imparentati, con i cani che muodano la coda. In buona parte siamo tutti i fratelli. Ma scusi, ma come si fa a ammazzare un fratello? No, si fa, si fa. Noi siamo i ragazzi che abbiamo vissuto la nostra adolescenza durante quella faida. Facevamo a gara insieme con gli amici ad arrivare sui luoghi in cui avvenivano gli omicidi. Perché dovevamo, come dire, capire le informazioni e poi la mattina dopo, quando andavamo a scuola, ad essere i primi a raccontare delle vicende, raccontare di quello che si era sentito, di come si era potuto svolgere. Quindi capisco che ormai eravamo veramente assuefatti a quelle dinamiche, eravamo dentro. La faida è ricerca ossessiva e personale della vendetta. Occhio per occhio, dente per dente, ma al di fuori del promontorio di tutti quei morti nessuno sa nulla. La faida di Monte Sant'Angelo si trascina per decenni nell'indifferenza generale. Mai un testimone, mai un collaboratore di giustizia. Come nel caso dell'omicidio di Matteoli Bergolis, figlio dello storico boss Ciccillo, ammazzato in piazza, in pieno giorno, davanti a decine di persone. Dovranno stare al minimo le mila persone. Sono venuto, sono fatto la moto, con la lupare, e stavano fatto davanti alla moglie e noi tu. Davanti a tutto il paese? Davanti a tutti. Questi, quando decidono di colperti, non gli spiega quanta gente c'era. Ma mi scusi, ma perché qui non parla nessuno? L'Inghese è una guerra fra di loro. Devi aprire le porte per quale motivo? Per rinominarti l'esistenza. Questa è la masseria di Bergolis. Siamo a pochi chilometri dal paese. Ci sono anche le iniziali. Francesco Ciccillo di Bergolis. Salve, buongiorno. Sono un giornalista di Sky. E se non ando a fare? A fare una domanda sola. Sì. Noi, tutto quello che abbiamo ricostruito fino ad oggi è un quadro di una famiglia distrutta da sta faida. Sì. È il marito della figlia di quello che è Ciccillo di Bergolis che è noto a tutti, anche a noi che veniamo da Roma, a essere uno dei boss della città. I giornali scrivono che sono 30 anni che si sparano tra parenti per questioni legate al territorio. Nasce come una mafia d'allevamento e adesso è tutto altro. Mi fai un'ortesia. Le persone stanno per i fatti loro. Non vogliono essere disturbati. Ma lei ha anni che fa parte di questa famiglia. Ha visto uccisioni del padre, uccisione del figlio, i due zii, altri rami della famiglia falciati da questa guerra. Ma si sarà fatta un'opinione? Non so, ma una persona non può dire niente. Penso che si rispetti. Lei è vicino a una donna, che è sua moglie, che ha subito dei lutti importanti. E quindi per questo sono anche qui, per chiedervielo come l'ha vissuto, perché se fosse stata una tragedia pure per lei. Io non posso, non ho niente da dire. Ma non lo so, non sono cose mie. A me non mi risulta che c'è stata fatta. Come non mi risulta? Però, prego, non mi prenda almeno in giro. Solo questo gli chiedo. Io non ho niente da dire. A me non mi risulta nessuna fatta, per quello che so io. E' una roba. Lei l'ha vissuta fin dagli anni Ottanta, questa faida, eppure si sono accorti dell'esistenza della mafia garganica solo nell'ultimo ventennio. Credo le abbiano sempre dato una lettura di una guerra tra pastori. E' chiaro che si trattava sin dall'inizio di un controllo del territorio, partendo ovviamente dagli animali, dal pascolo, dal territorio, e poi via via evolvendosi come poi fanno di solito le mafie nei territori. Il problema serio è stato che le sentenze siano arrivate troppo tardi. Nell'ultima sentenza che abbiamo avuto qui a Monte Sant'Angelo, i gruppi criminali in questione avevano rapporti con l'Andrangate, avevano i rapporti con la Camorra. Se hanno capacità di interloquire con le altre mafie, vuol dire che vengono riconosciute dalle altre mafie. Lei nel 2017, subito dopo lo scioglimento per mafia del comune, diventa sindaco. Sembra una scelta, come dire, quantomeno coraggiosa. Chi ne l'ha fatto fare? Bella domanda. Prima o poi arriva il punto in cui ti devi schierare. Allora o ti schieri in un modo o altrimenti poi significa che devi conviverci. abbiamo letteralmente svuotato la parte dei lavori pubblici portandola appunto fuori e allontanandola dal territorio. Che tipo di minacce ha subito? Allora, la prima è stata l'incendio dell'auto proprio qui sotto il comune, una stradina qui sotto il comune. Qui è poi seguita l'altra minaccia, quella un po' più forte con un punto di vista anche, diciamo, emotivo. Una busta contenente delle minacce dirette a me, la mia famiglia e insieme a questo foglietto c'era un teschio umano prelevato a quanto pare dal vicino cimitero di Macchia. Qualche nemico se l'è fatto? Come dici, se vivi in tranquillità facendolo amministratore in un territorio come il nostro, credo che poi forse non stai facendo proprio bene il tuo mestiere. La faida di Monte Sant'Angelo la vincono i Libergolis. I Primoso e i loro alleati sono sconfitti, uccisi o dispersi. Ma ora che sono i signori della montagna, i Libergolis cominciano a guardare con interesse il mare che quella montagna domina, l'Adriatico. Perché negli anni 90 i Pascoli sono roba passata e la ricchezza è laggiù, nelle città della costa. Sigarette di contrabbando, droga e armi provenienti dai Balcani sono questi i nuovi obiettivi del clan Libergolis. Ma per ottenerli hanno bisogno di nuovi alleati in altre città del Gargano. Chi era tuo padre? Boss della Biestano. Questa era la grande faida, Libergolis contro la famiglia del clan Primoso. La tua famiglia da che parte sta? Il clan di Libergolis. Ai Vertice c'erano i Libergolis. Poi nella parte occidentale c'era la famiglia Conangelo. La tua? Sì, perché il mio più nonno era a Montanaro, di San D'Angelo. Mi ridicano che avevano una mezza parentela. Vieste, la città più orientale del promontorio. Terminale strategico per i traffici con i Balcani. Qui, i Libergolis stringono un'alleanza con i fratelli Conangelo, in particolare con Antonio ed Enrico. Boss potenti, tra i primi nel Gargano ad aprire le rotte del contrabbando con l'Albania e a vantare rapporti con le altre mafie. La tua famiglia si era presa la città? In quegli anni si può dire di sì, sì. Ma era più speciale sul contrabbando, sulle sigarette. I punti con l'Albania? Sì. Vabbè, a queste in Albania siamo pochi chilometri. Quante ne portavano? Vabbè, no. Perfetto. Qual è entrato secondo te nel giro? Quello che l'ha trascinato è forse stato proprio il mio zio, Enrico. Lui è proprio l'anello congiunzione di tutta la questione garganica, anche sul business. Perché era diventato così importante il zio? Perché sapeva fare i soldi e aveva tantissimi rapporti con altre mafie. Con Ciccillo Libergoli si è un partnership. È iniziata là la ricchezza vera della mafia garganica. Ovviamente con i forti bestiam non è che facevano così tanti soldi. Come sigarette si sono arricchiti. Sì. Quanti anni aveva tuo padre quando è stato ucciso? 36. C'era 36 anni. Perché l'hanno ammazzato? Perché il suo nome forse l'ha diventato un po' troppo inquartante. C'è solo più grande di mio papà che era proprio il mio. Cosa è successo quel giorno? Che ti ricordi? Allora, mio papà era appena venuto dall'Albania il 6 di dicembre. C'è un giorno che si fa l'albero di Natale, mi frate, mia sorella, mio fratello, mia mamma, mangiato. Tu stavi sul letto? Sul letto con il papà che sta guardando la tv e io stavo appoggiato con la testa con il rispetto di mio padre. Mi ha avuto ancora il loduro. Poi tutta una volta per esempio il citofano. Si alza mio padre, parlano e scende mio padre. Io sono rimasto a vedere la tv. Poi tutta una volta si andava di risp... Cioè, dal piccolo pensavo che erano dei corpi di mortaretti, i corpi d'artificio. Poi sento urlare mia madre, mio fratello, scendo pure io, vedo... Gio il cancello, vedo mio padre ricoperto di... 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 sangue. L'hanno sparato a ripetizione. Nel frattempo che stiamo scendendo vedo delle macchine che se ne fanno retromarcia e scappano verso l'orio estero. Vedranno gli assassini? Sì. E che hai fatto dopo 5 anni? Dove hai? Ponto l'ambulanza, ci hanno... portato alla casa, ci hanno lavato, ne ha tutto il sangue addosso. Tua madre e voi figli si è andati sul corpo a abbracciarlo? Eh sì. E avevano soccordi di proteggere mio papà. E quindi avevi il sangue sulle mani? Mia sorella, mio padre erano proprio ricoperti di sangue. Vabbè ricordo che avevi ripreso proprio nella testa. Vabbè poi anche il giorno che hanno preso. Il Natale non è un momento felice per te? No, infatti non quasi mai lo festeggiamo. Cioè te l'hanno per sempre distrutta. Quello è proprio di lasciartelo per sempre in ricordo. No, parte della tua famiglia poi è rimasta in quel tipo di vita. La cultura è o con noi cioè o catena o campane o vai nella tomba o vai in prigione. Però devi rimanere sempre nel clave della famiglia. Mio zio Michele Enrico sono tutti morti. Come venire della famiglia? Tutti ammazzati. una scia di sangue che sembra non finire mai ma che non arresta l'espansione dei Libergolis. Alla fine degli anni 90 i nipoti di Cicillo Franco Armando e Matteo prendono le redini del clan e continuano la conquista della costa. A Manfredonia si alleano con la potente famiglia dei Romito guidata dai fratelli Franco Michele Antonio e Mario Luciano figli del patriarca Francesco che ha rapporti con la batteria foggiana dei Trisciuoglio Principe Tolonese e con i camorristi del clan Aprea di Napoli. Insieme fondarono un clan potentissimo ribattezzato di Bergolis Romito che controllava appunto un po' tutto il promontorio erano appunto di riferimento anche per i clan minori con i quali appunto si erano divisi un po' il territorio puntando appunto anche all'attività commerciale di Manfredonia al controllo del settore turistico le estorsioni e quant'altro sfruttando anche il fatto che Romito erano noti per la loro abilità nel mondo del contrabbando di sigarette che negli anni 90 soprattutto era uno dei business più floridi della mafia garganica. Nei primi anni 2000 il gargano è loro il clan è ricco e i suoi tentacoli hanno raggiunto ogni attività dalla costa alla montagna ma quando gli interessi sono così importanti basta poco per spezzare gli equilibri è il 2 dicembre 2003 quando alla masseria Orti Frenti di proprietà dei Romito si svolge un summit del clan seduti allo stesso tavolo ci sono i fratelli Franco e Mario Luciano Romito Franco e Armando Libergolis Antonio e Matteo Lombardi esponenti di una famiglia alleata si parla di estorsioni omicidi e appalti in particolare si deve risolvere la questione dell'omicidio di Michele Santoro referente per il narcotraffico della famiglia Libergolis e amico fraterno del boss Franco Libergolis Michele Santoro viene ammazzato da Matteo Lombardi e per il boss adesso è arrivato il momento di chiarire il nostro popolo ammazzato non c'è il nostro che è andato di più siamo a a a a a il summit mafioso avrebbe dovuto ovviamente restare segreto invece i carabinieri d'accordo con i romito hanno riempito la masseria di microfoni una trappola lì bergolis e lombardi ci cascano e a suggellare la pace fra lombardi e lì bergolis a beneficio dei carabinieri che stanno ascoltando tutto è proprio mario luciano romito grazie alle confessioni registrate nella masseria le forze dell'ordine smantellano il clan franco libergolis finisce all'ergastolo suo fratello armando prende 27 anni e matteo lombardi 14 per omicidio i romito invece vengono tutti assolti e rimessi in libertà ma è difficile che possano goderne un tradimento del genere qui chiama sangue ed è così che comincia la nuova faida accadere per primo è franco romito ucciso nel 2009 insieme al suo autista poi a essere trucidato solo due mesi dopo è suo figlio michele ma anche i di bergolis hanno morti da piangere a cadere è il patriarca ciccillo sorpreso in un agguato davanti alla sua masseria i killer poi tentano di far fuori mario luciano romito ci provano due volte ma falliscono sempre fino a quel giorno di agosto di qualche anno fa i killer hanno freddato il boss della malavita garganica mario luciano romito con due colpi alla testa ma a farne le spese anche due poveri contadini dalla zona luigi aurelio luciani testimoni involontari della strage foggia cominciano ad arrivare anche i primi agenti promessi ieri dal ministro minniti se gli omicidi seguiti a orti frenti sono rimasti tutti risolti questa volta è diverso ora lo stato mette in campo i suoi migliori investigatori dopo pochi mesi l'indagine ha una svolta romito viene individuato in un filmato registrato all'interno di un bar di manfredonia la mattina della strage e da lì iniziano a tracciarne i movimenti passano al setaccio tutte le telecamere di sorveglianza intorno alla città finché non trovano la sua auto sulla statale 89 in uscita da manfredonia ma notano anche qualcos'altro la volkswagen di romito è seguita da un'altra auto questa una fiat grande punto grigia la stessa macchina segue a lungo romito anche in aperta campagna e a 20 chilometri dalla stazione di san marco in lamis si aggiunge al pedinamento una seconda auto è una ford nera quella degli assassini gli investigatori riescono a identificare l'uomo alla guida della prima auto il suo nome è giovanni caterino è quello che nel gergo criminale viene chiamato il basista ha studiato i movimenti del boss e preparato il campo ai suoi assassini i killer dopo aver compiuto la mattanza incendiano l'auto a pochi chilometri dall'agguato e raggiungono a piedi visti da un testimone questa masseria un luogo in cui giovanni caterino nei giorni successivi alla strage si reca più volte per incontrare un pregiudicato locale angelo tarantino la sua è una nota famiglia criminale garganica originaria di sannicandro e la masseria è intestata sua zia la signora grazia scola signora scola salve siamo qui seguendo una vecchia storia quella del 2017 proprio lì dietro alla masseria fu ritrovata questa auto bruciata ma sono nipote angelo aveva rapporti con questo giovanni caterino caterino è pienamente coinvolto nella strage di san marco in manis perché la macchina l'hanno trovata bruciata vicino alla vostra masseria e voi siete una famiglia importante della criminalità di sannicandro e questo mi dicono ma chi è giovanni caterino e per perché avrebbe partecipato ad un omicidio di mafia gli investigatori mentre indagano su di lui intercettano il suo telefono e ascoltano queste parole l'uomo a cui fa riferimento caterino è il nipote di ciccillo libergolis Enzo Miucci l'attuale reggente del clan di cui caterino è un fedelissimo questo è un indizio fondamentale che collega l'omicidio di romito e dei fratelli luciani alla faida con i libergolis e ora gli inquirenti danno la caccia agli altri membri del commando Gli sviluppi dell'indagine portano a questa zona industriale alla periferia di Manfredonia la città natale di caterino gli investigatori scoprono che ha preso la macchina usata nel pedinamento in questa autorimessa di proprietà di un noto pregiudicato locale Giuseppe Bergantino da cui il basista della strage tornerà più volte nei mesi successivi e proprio lì accanto nell'autosoccorso dei fratelli Manzella sono state registrate queste conversazioni Gli sviluppi dell'indagine portano a questa zona buongiorno buongiorno cercavo il signor Giuseppe il signor Giuseppe o il signor Michele avete sbagliato? stiamo per facendo un documentario di fatto su quello che è successo a San Marco in Lamis c'è un personaggio che si chiama Giovanni Caterino che in qualche modo passava qua facendo troppe domande inutile state proprio sbagliando adesso mi faccio una foto alla macchina ma faccia la prego ma se vuole io le do pure nome e cognome ma non è che abbiamo niente da nascondere ma stiamo a fare un documentario perché non è qua però avete proprio sbagliato il film ha il cancello verde è lì che stavano ma però è lei il nipote quindi saprà un po' qualcosa è quasi le chiacchi che ci dicono c'era l'intercettazione fra loro in cui dicevano no guarda Caterino è bruciato per la vicinanza alla storia di San Marco in Lamis questo Caterino noi stiamo uccidendo dei gnon innocenti per fare il piacere questa intercettazione dei fratelli di Manzella mezzo proprio perché non c'entrano proprio niente veniamo indirizzati all'autonoleggio del fratello di Giuseppe Manzella Salvatore detto Sansone dove continuiamo la nostra ricerca Salve sono un giornalista di Sky e stiamo ricostruendo un po' tutta la storia di San Marco in Lamis ci sarebbe il signor Giuseppe Manzella io sono Manzella però mi pare che aveva una malattura ci stanno secondo le indagini dei carabinieri Giovanni Caterino che è stato l'unico arrestato di quella mattanza veniva spesso qui in questa zona chi si chiamano Pagno Caterino? magari così magari ci aiuta salve niente di grande guarda vai come entravi? usaci un minuto no chiediamo un'informazione come è andato il coppia? vuoi se sconti per me ma è ma sia caldo via spavento e tremo qua ma che? ma come ti permette? ma un'informazione abbiamo avuto ma come ti permette? ma che è schifo? fai lì se tu canci se tu canci guardi che sono stai calmo siamo giornalisti vieni 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 guardi che piccino arrivano i carabinieri subito arrivano subito i carabinieri ma che cazzo? che faccio? basta 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 fermo 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 eh buongiorno mi chiamo Daniele Pervincenzi sono un giornalista siamo stati aggrediti all'interno di riusciamo ad allontanarci e a chiamare i carabinieri ma veniamo subito raggiunti sono tutti qua c'è Caterino Manzella è fatto Manzella ma cosa ha fatto il Lamis ci avete già picchiato no no non mi ha picchiato Amici Manzella la rete di contatti di Caterino porta gli investigatori a fare un'altra importante scoperta il basista della strage di San Marco in Lamis a rapporti stretti con il vice sindaco di Manfredonia Salvatore Zingariello è una telefonata che Caterino fa ad un altro amico ma come capita spesso io dico parlando tra amici che si può parlare di calcio o di donne o di criminalità organizzata chiaramente il livello confidenziale alcune volte ti porta anche a fare affermazioni o elezioni o addirittura a inventare io conoscevo Caterino lo conoscevo dal punto di vista dell'amicizia era un simpaticone cioè un amico amabile poi giocava ogni giovedì a calcetto anche con soggetti delle forze dell'ordine giocava ogni domenica mattina con medici, professionisti diciamo ha sempre avuto un atteggiamento un po' spavaldo ma nessuno di noi ha mai potuto immaginare una cosa del genere questa pista investigativa permette agli inquirenti di ricostruire un intricato sistema di relazioni fra funzionari pubblici e uomini del clan Libergo nel 2019 il comune di Manfredonia viene sciolto per mafia frequentare una persona non può essere certamente elemento di concreto per lo scioglimento di un consiglio comunale la ricostruzione la ricostruzione dei magistrati ovvero la tua vicinanza a Caterino e quindi diciamo la vicinanza alla sfera della grande famiglia Libergo la vicinanza dei tuoi fratelli al clan Miucci Libergo e di altri sei assessori il quadro è piuttosto ampio però è questo c'è un clan e hai amicizie con soggetti che sono stati coinvolti in questa storia no, non è certamente un crimine probabilmente io ho amicizie se mi chiedono l'amicizia su Facebook io l'accetto ho queste richieste di amicizia da parte di tante persone perché erano l'amministratore della città in un territorio come questo mi risulta strano credere che non ci fossero oppressioni o che non ci fossero tentativi di corruzione io sono uno di quelli che ha amministrato per più tempo e io lo escludo categoricamente cioè che ci sia la mafia e che la mafia abbia grossi interessi sul territorio è palese ma che l'interesse della criminalità organizzata era infiltrarsi nella pubblica amministrazione il Caterino che ha imparato a conoscere negli anni può essere effettivamente il basista di una delle stragi più efferate degli ultimi anni in questo paese cioè Caterino può essere il basista di San Marco Illamis? io più volte mi sono fatto questa domanda dopo tutto quello che è successo io ancora oggi nonostante sia stato condannato in primo grado ho difficoltà a immaginare una cosa del genere per come lo conoscevo io Amsterdam lo snodo internazionale del narcotraffico europeo è il 15 ottobre 2017 appena due mesi dopo la strage di San Marco Illamis quando un avvocato holandese riceve la visita di un uomo I don't know exactly why he came to me he was looking for a lawyer to get some sort of advice because due to what he claims an action of self defense somebody died fuori di San Marco Illamis l'assassino si chiama Carlo Magno viene da Manfredonia ed è un noto intermediario del narcotraffico internazionale Carlo Magno racconta di aver ucciso in una lite per una partita di droga Saverio Tucci anche lui di Manfredonia anche lui narcotrafficante Tucci detto faccia d'angelo qui hanno quasi tutti un soprannome è un volto piuttosto noto agli inquirenti in quanto era un affiliato del cani Bergolis uno di quelli della prima ora trattava con i colombiani per riportare la cocaina in Puglia E stradato in Italia Carlo Magno inizia a collaborare e inaspettatamente collega Saverio Tucci alla strage di San Marco Illamis Saverio Tucci però che avrebbe preso tutto il cangano con Foggia per trafficare la cocaina e con questi cubi si è messo insieme per poter gestire questo tratto di cocaina e le stesse persone erano stati mai di giorno prima a casa di Lovito quindi ci erano amici suoi che non stavano più d'accordo con Lovito si sono girati con Lovito si sono partiti a Lovito se non sono partiti stessi e Tucci era stato in qualche modo coinvolto e faceva parte di questo Lovito quindi e lui faceva parte di questo che non sono partiti Carlo Magno raccontò che Tucci le aveva rivelato di aver preso parte alla strage di essere in pratica uno dei tre killer che uccisero Mario Luciano Romito e i contadini Luciani a conferma di questa ipotesi ci sono le parole di Giovanni Caterino che teme la vendetta del clan Romito io che ti ho detto io ne posso avere ora sono un muschio c'era quello che è un digastino ma non c'è noi uno la priorità era me e essere di facciare l'altro Mario Luciano Romito solo col sangue poteva pagare il tradimento di Ortifrenti ma non si esclude che dietro possa esserci anche dell'altro un personaggio ormai diventato ingombrante e soprattutto alla luce dei nuovi traffici che la malavita garganica stava cominciando a intraprendere soprattutto nel mondo della droga l'indagine sulla strage è ancora in corso ad oggi l'unico arrestato è Giovanni Caterino il basista condannato all'ergastolo in primo grado Saverio Tucci l'altro presunto membro del commando è invece stato ucciso la sua verità non la conosceremo mai gli altri killer restano ancora sconosciuti quella di San Marco il Lamis è una storia contante troppe zone d'ombra ma c'è un dettaglio che vale ancora la pena di raccontare nei minuti esatti in cui si sta compiendo la strage un uomo chiama ripetutamente un numero di cellulare trovandolo sempre spento quell'uomo è Matteo Lombardi che ha passato 14 anni in carcere a causa del tradimento dei Romito la persona che Matteo Lombardi cerca ripetutamente di chiamare la mattina dell'omicidio di Mario Luciano Romito è Angelo Tarantino la stessa persona che incontra più volte Caterino nella masseria dove si sono diretti killer dopo aver incendiato la macchina usata nell'agguato come mai Matteo Lombardi chiama insistentemente Angelo Tarantino proprio in quei momenti Matteo Lombardi ti raggio Matteo salve mi chiamo Daniele Piervincenzi sono giornalista soprattutto lei perché poi lei nell'intercettazione degli inquirenti figura più volte ma in qualche modo perché era lei conosceva sia Ili Bergolis che Romito è apparente con Ili Bergolis ma io non so come non lo conosce sta ehi però soltanto che sto c'è da fare no ma io le rubo solo un minuto lei è la persona sì in vita qui fuori più vicina a quella mattanza a quell'assassino no 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 c'è chiacchio c'è chiacchio c'è chiacchio lei era vicino al clan di Bergolis non a quello Romito no sono parente no la moglie di Bergolis è mia cugina Franco Romito l'ho portato a sposare e battizzare tre bambini che idea si è fatto però di questa guerra niente zero perché quando uno sta fuori non sai non stava fuori stava dentro nelle due famiglie allora se lì c'è un cugino che è un mafioso lei è mafiosa c'è che significa da Orti Frenti l'hanno intercettata sono venti anni fa lei si è fatto quattordici anni di carcere per omicidio dalla sua storia lei farebbe pure un po' paura per niente per niente Michele Santoro non l'ha ucciso lei prendete Orti Frenti dice questa frase perché hai detto frase poi hai detto così e io vi spiego tutto sono tutte battute tutte battute ma si parla dell'omicidio come fatti a una battuta mi scusi con quella intercettazione lei stava scherzando no sono che scherzando ci stavamo arrabbiati che scherzando uno mi accusa l'omicidio e scherziamo non lo so lei mi dice che sull'omicidio non si scherza però poi mi dice che quella era una battuta io faccio fatica a capire quello che mi sta spiegando sono provocazioni ah sono stato io e vabbè sono stato io allora però i fatti però i fatti sono successi veramente io sono stato consigliato a Romito di dire così perché così appianate fate pace cioè Romito Romito le ha suggerito di dire così perché così non c'era più facevate pace siamo noi facciamo fare pace una piccola colpa la potrà ammettere qual è lo sbaglio che ha commesso di fidarmi di tutti di compagni i parenti tutti dei di Bergolis dei Romini tutti per me cercano la testa di legno e lei era la testa di legno perfetta ma insomma quanti parenti l'hanno ammazzato a lei quanti l'hanno ammazzato a lei però voglio dire numero 5 6 di più di più a lei hanno ammazzato più di 10 parenti vado a difendere a tutti no mi può spiegare che cosa significa vivere in una faita di sangue che dura da 30 anni tu stai tranquillo perché stai tranquillo perché non c'entra niente niente assolutamente niente zero io apro la pagina e leggo che lei ammette un omicidio quando ce ne sono 4 in un colloquio e lei dice sì ho fatto io poi lei ha una vicinanza con Tarantino la cui masseria è il luogo dove è stata ritrovata l'auto bruciata che è stata utilizzata nell'agguaro e lei chiama nel momento in cui quell'auto viene bruciata un'altra casualità ma in quei tre mesi di conoscenza che Tarantino mi chiedono quel giorno no sicuramente quel giorno non mi ha risposto è la serie di casualità che diventa curiosa la casualità 20 anni fa è questa volta quel giorno il rapporto c'era fra lei e Tarantino perché vi sentivate? per le mucche per le mucche sì ho scontato 14 anni di pena innocentemente esco sto con gli animali me ne vado in Abruzza faccio 400 km distanti per stare lontano da tutto e poi legge cosa? questa società di Brescia mi manda Tarantino là e perché ha chiamato Tarantino in quel momento? sì per dire non ricordo se dovevo andare il giorno dopo o quel giorno dovevo andare e non sono andato dovevo dire vai tu doveva andare lei lei ci ha avuto proprio la sfortuna malaugurata di chiamare mentre si bruciava la macchina dell'agguato dell'assassino assolutamente sì pensa il caso e come si sente a sapere che sono stati ammazzati due padri di famiglia innocenti? mamma mia assolutamente brutto assolutamente bruttissimo assolutamente con i figli a casa poi c'era il nome mio amico chiamato Tarantino io sono stato tre giorni con dolore di testa la trappola dei Romito ha rovinato la vita pure a lei certo il tradimento dei Romito ha rovinato la vita pure a lei certo ma mica mi mette a fare tu capito come si dice posso dire dopo 14 anni di galera ma lei non prova rancore assolutamente no lei non ci ha apprezzato ma lei un fratello gli fa del male anche qualsiasi cosa lei ammazza suo fratello cioè lei dice ancora nonostante quello che le hanno fatto per lei Romito è ancora un fratello ma che non si scherzare per troppi anni questo territorio è stato dimenticato dallo Stato lo dimostrano lo scioglimento per mafia dei comuni le bombe le istorsioni che tengono sotto scacco foggia e la lunga scia di violenza delle faide che per decenni hanno insanguinato il Gargano dalla strage di San Marco in Lamis qualcosa sta cambiando lo Stato ha cominciato a reagire sebbene la strada da percorrere sia ancora lunga ma la mafia qui è violenta e arcaica e soprattutto è in vantaggio cambieranno ancora i clan e le famiglie al potere così come cambieranno i politici da comprare ma noi saremo ancora qui a raccontarveli sono Daniele Piervincenzi e queste mappe criminali due teste di animale mozzato con due proiettili agganciate alla settimana la Liguria è lo specchio della Calabria è proprio la Calabria del nord quanti anni ha detto avrò avuto non so 16 anni lui ti avrebbe messo una pistola in mano no no cucito ogni panetto di cocaina ciò che si fa quel che ricavo si è di 200 di vetro che c'è qua principalmente qua a Grazie a tutti